Annali di Marlin Ok, che cosa facciamo adesso? Sembra che Frenchie e Paul siano stati catturati Ma Butcher è riuscito a nascondersi su uno dei camion Sai che cosa significa questo? Certo, non dobbiamo far saltare i camion Esattamente So che ami gli esplosivi Ma questa volta cerca di fare un po' d'attenzione Ai suoi ordini, signore! Ciao ragazzi e ben ritornati qui su Luparo TV Sesta ed ultima missione dell'Europa centrale Tendi un'imboscata al convoglio Vi faccio vedere innanzitutto ragazzi Quanti soldati adesso ci saranno alle calcagne Perché qui ci sarà una vera ondata di nemici E noi dobbiamo fermarli a tutti i costi Ma soprattutto dobbiamo fermare anche i carrammati Che arriveranno qui attraverso questa strada Senza danneggiare i camion Che trasportano appunto la merce con le opere d'arte Innanzitutto vi faccio vedere adesso Quanti nemici realmente arriveranno qui ad attaccarci Vedete già sono un bel po' Sono delle truppe speciali Infatti questi qui che sono posizionati qua Sono solamente di guardia Mentre qui arriverà veramente un battaglione di nemici Che noi dovremo sterminare Credo che per far venire le altre ondate Dobbiamo eliminare già questi qua Ad esempio che si sono raggruppati qui all'entrata della piazza Ma ne arriveranno vedete sempre in continuazione Ogni, non lo so, ogni mezzo minuto un altro ondato Un altro ondato Finché non arriveranno appunto i carrammati Tutto pronto signori Adesso ragazzi è raggiunta l'ora di tendere un'imboscata A tutti i nemici Che adesso tenteranno di assediarci Importante è qui veramente adesso posizionare i soldati in modo corretto Così da poter tendere al meglio l'imboscata Pronti? Pronto Adesso Sì? Sì? Mettiamoli qua questi qua Sì? D'accordo Sì? Per adesso va tutto bene Sì? Buuuu! Fatto! Avviciniamo lui... D'accordo! Ok... Fuori il primo carammato... L'ho fatto in fretta, vero? Sì... Fatto! Merda... Non dobbiamo fare passare quella... Sniper? L'ho fatto in fretta, vero? Ecco fatto! Ok, adesso arriva quello... Dovrebbero farlo esplore... Esatto! Adesso manca l'ultimo carammato... Che dovrebbe arrivare tra poco... Ma qui ci stanno ancora altri soldati... Che dobbiamo spazzare via... Vado subito... Vado subito... Vediamo questi... Fin dove ci mettiamoci qua... Sono addestrato per questo... 5... Fatto! D'accordo! Qual ha aviuscita lasciato un po' di salto... Ove... Equi... Si... Di... Ma... Quai... 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 Sono il tuo uomo. D'accordo. D'accordo. Sì. Sì? Chiaro e limpido. D'accordo. Aha. Chiaro e limpido. Ci sono. Ok. D'accordo. Hmm. Ok. Ci sono? Chiaro e limpido D'accordo Sì Sono addestrato per questo Vado subito Vado Vado subito Vado subito